Ciao ragazzi, oggi facciamo il video dell'unboxing dell'HTL OneTouch e procediamo. Abbiamo parlato dell'HTL OneTouch, in questo caso IDOL 6030D. È un telefono dual sim, innanzitutto, con fotocamma di 8 megapixel, GPS, un display IPS da 4.7 pollici, QHD, permetteva bene il Wi-Fi hotspot, oltre al Wi-Fi classico, il Bluetooth, la connessione 3G 7.2 Mbps, un processore Meditech da 1 GHz dual core e Android Jelly Bean 4.1. E aggiungerei io una linea davvero originale dal punto di vista della bellezza e del design. Andiamo subito a vedere, lo apriamo. Il telefono è questo, possiamo vedere che abbiamo un LED di notifica, che lampeggia in questo caso, come possiamo vedere. Abbiamo poi uno speaker per parlare, una fotocamera interna, una fotocamera frontale, poi il sensore di prossimità, poi abbiamo la porta micro USB per connettere i dati, il cavo dati, poi abbiamo il bilanciere del volume sull'altro, ah no, non è il bilanciere del volume, questo, scusatemi, questo è il slot per la SIM 2, per l'altra SIM, invece quest'altro è lo slot per la SIM 1 più il bilanciere del volume. E poi superiormente abbiamo il cavo jack da 3.5 più il tasso di accensione e di spegnimento. mi sembra che avete tutti quanti i lati, sì sì sì, dietro mi sono dimenticato, eccoci, allora, dietro abbiamo appunto il flash LED, insieme alla fotocamera da 8 megapixel che può riprodurre anche in full HD, ma legge i video in HD e fa i video in HD, poi testeremo se vedrà e li potrà leggere almeno i full HD, poi il microfono per la soppressione dei fushii e lo speaker. Come potete vedere la linea è davvero splendida, è un unibody in alluminio, davvero eccezionale, ecco, possiamo vedere come anche la costruzione è davvero ottima. Lo andiamo a sbloccare, la situazione è questa, questo è il display, ottimo, davvero ottimo display, abbiamo qui sotto i tasti soft touch e indietro home e impostazioni, se è tenuto premuto, oppure ultime applicazioni di recente, in questo caso nessuna applicazione di recente. Bene, per questo video di unboxing è tutto, mi lascio qualche giorno per provare il telefono, per testarlo e poi vi dirò le mie conclusioni. Se, come al solito, volete richiedere qualche prova particolare o avete intenzione di fare qualche richiesta, eccetera, vi consiglio di lasciarmi un commento sotto il video di unboxing nel post relativo sul mio sito provacellulari.it. Vi ringrazio, alla prossima!